La Puglia è pronta alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid e l'annuncio del presidente della regione Michele Emiliano che ha anche reso noti i dati delle vaccinazioni sul personale scolastico che supera il 93%. Resta però per quanto riguarda la scuola il nodo trasporti, allora questo con i dati aggiornati relativi all'andamento epidemiologico nella nostra regione nel servizio. La Puglia è pronta alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid e la regione ha già messo appunto il piano per farlo. Lo ha annunciato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano evidenziando non solo l'importanza della campagna di immunizzazione contro il Covid ma anche i dati relativi alle scuole dove la combinazione ASL, uffici scolastici regionali e provinciali è stata buona visto che il 95,34% del personale è vaccinato ed è vaccinato il 61,8% di chi ha dai 12 ai 19 anni in Puglia contro la media nazionale del 54%. Si tratta di 7 punti in più rispetto alla media nazionale che per una regione del sud che ha una sanità meno strutturata è un risultato straordinario ha proseguito il governatore spiegando che grazie alla vaccinazione di massa in Puglia dove c'è stata un'ondata turistica straordinaria le ospedalizzazioni sono state moderate quindi evidentemente ha detto il vaccino funziona. Il presidente è confortato anche dei dati forniti dalle ASL come quella di Taranto dove il 71% dei ricoverati a causa dell'infezione da coronavirus nelle strutture ospedaliere non si è sottoposto a vaccinazione anti-Covid. Lo ha reso noto la stessa azienda sanitaria in riferimento ai ricoveri registrati nel mese di agosto che sono stati 35 di cui 25 relativi a persone non vaccinate. Gli ospedali però reggono e ora il numero complessivo dei positivi ricoverati di 244 unità di cui 20 in terapia intensiva e quanto emerge dal bollettino odierno stilato dalla task force regionale che si occupa dell'epidemia in cui si segnalano 298 nuovi positivi su quasi 17.000 test processati. Sono le province di Lecce e Bari a registrare il numero più alto di nuovi contagi rispettivamente 80 e 79 una sola la vittima del covid accertata nelle ultime ore. Ore in cui si discute anche di scuole e della ripresa dell'attività in presenza rimane il nodo trasporti e tra le proposte su cui sta lavorando il tavolo convocato in prefettura Bari in vista dell'avvio dell'anno scolastico c'è anche differire l'orario di ingresso e di conseguenza di uscita di 90-100 minuti per il 25-30% degli studenti delle scuole della provincia di Bari. Due le diverse posizioni discusse nel corso della riunione. La prima relativa al sistema dei trasporti che ha dato la propria disponibilità per quanto riguarda i bus ad aumentare le corse. La seconda le scuole che hanno evidenziato la difficoltà a organizzare il differimento degli orari pur non escludendolo. Sarà compito dell'ufficio scolastico fornire dati sugli studenti pendolari con le relative tratte di partenza e destinazioni. Il tavolo tornerà a riunirsi nei prossimi giorni.